Sì, grazie Presidente. Innanzitutto per dichiarare il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno, avvisare il Segretariato che questo ordine del giorno è identico al 1626, che è all'ordine dei lavori, e comunque dire veramente due parole. Le difficoltà che questa amministrazione ha trovato nella gestione dei parchi e del verde, noi le abbiamo spiegate tante volte, abbiamo trovato veramente un servizio giardini disastrato sotto tutti i punti di vista, poter portare avanti un bando sul verde orizzontale è stata un'operazione molto complessa, è stato sbloccato proprio di recente, c'è stata la conferenza stampa in cui da adesso in poi ci sarà la cura del verde e dei parchi, e dunque noi riteniamo che non solo ci sarà una maggiore attenzione a questo parco, ma proprio a tutti i parchi di Roma, ma proprio per lo sblocco di questo bando del verde orizzontale specifico sui parchi. Grazie.